Terra Mara, anticipazioni da lunedì 29 gennaio a giovedì 1 febbraio. Vahap, subito dopo aver guardato Hakan e Zuleyya che escono dal ristorante, imbraccia un fucile, inquadra nel mirino Hakan e spara, ma il colpo viene deviato da Kadir che gli toglie il fucile dalle mani e gli dice che se dopo aver ucciso Hussain voleva uccidere anche Hakan è fuori di testa. Vahap gli ribatte che sta solo cercando di toglierlo dai guai e in più è arrabbiato con Hakan. Kadir con tono duro gli risponde che lo sta solo danneggiando invece di aiutarlo e deve fare solo quello che gli ordina. Intanto Hakan e Zuleyya arrivano preoccupati alla villa e Fadik l'informa che Lutfie ha avuto un forte rialzo di pressione. Lei assicura che adesso sta bene ma Hakan dice a Zuleyya che devono portarla in ospedale. Qui Zuleyya le chiede se è successo qualcosa che ha provocato il malore ma Lutfie nega senza raccontarle nulla, poi viene presa in cura da Ikut. Nel frattempo Kadir e il fratello sono in un luogo isolato e Vahap gli chiede perché non vuole che uccida Hakan. Kadir gli spiega che non lo possono uccidere perché ha qualcosa in mano che lo può rovinare. Poi gli chiede perché ha sospettato di Hussain, lui gli risponde che lo aveva trattato male e aveva capito che si voleva vendicare. Kadir gli ribatte che grazie a lui adesso qualcuno sa che loro hanno ucciso Fekheli e che devono trovarlo. Poi prendono il corpo di Hussain dal portabagagli e lo buttano dentro un fiume. Intanto in ospedale la pressione sanguigna di Lutfie si è stabilizzata. Ikut però decide di trattenerla per la notte in osservazione nonostante le sue proteste. Nel frattempo è arrivato anche Fikret che riesce a convincerla. Poi Fikret e Hakan escono insieme dalla stanza, Zuleya insospettitasi li segue. Usciti dall'ospedale Fikret chiede ad Hakan perché si trovi lì. Hakan a sua volta gli chiede se era innamorato di Zuleya anche quando Demir era vivo. Fikret per tutta risposta gli sferra un pugno e anche questa volta si picchiano. Arriva Zuleya che li divide e Fikret le chiede se ha chiamato lei Hakan. Lei gli dice che è assurdo e gli chiede di andarsene. Poi chiede ad Hakan come sta e lui accarezzandola la rassicura di stare bene. Il giorno seguente Haikut dimette Lutfie e poco dopo la raggiunge Fikret con un vistoso livido al viso e lei gli chiede cosa abbia fatto ma lui non risponde. Rimasta sola poi con Zuleya le chiede se Fikret ha litigato con Hakan. Zuleya non vorrebbe che lo sapesse ma lei la convince a dirglielo. Lutfie tornata alla villa chiede nuovamente a Fikret cosa ha fatto al viso. Fikret le dice che ha sbattuto e lei si arrabbia per la sua bugia. Poi Fikret va a parlare con Zuleya e le chiede se è arrabbiata con lui. Lei gli risponde che si comporta come un ragazzino invece di essere un esempio per tutti e che è stufa delle liti sue di Hakan. Poco dopo arrivano Shermin e Betul che guardano Fikret senza rispondere al suo saluto. Le due donne si recano da Lutfie e dopo i convenevoli Shermin inizia a lamentarsi del comportamento di Fikret che fa piangere sua figlia. Nel frattempo il corpo di Hussein è stato ritrovato e sul luogo del ritrovamento è presente anche il procuratore. Lo raggiungono Kadir e Vahap che si mostrano stupiti e addolorati e chiedono come sia successo. Il procuratore spiega che è caduto nel fiume battendo la testa ed è annegato. Allora Kadir si impegna ad organizzare il funerale. Lutfie racconta a Sanye della telefonata che le ha svelato la causa della morte di Fekeli e le dice che quando sono andate a Esparta non è stata una coincidenza che Kadir fosse lì e che le ha ingannate. Poi si chiedono se potrebbe essere coinvolto anche Mehmet che è suo amico e socio ed è di Esparta. Sanye le dice che Zuleya e Mehmet sono soci e dovrebbe sapere dei loro sospetti ma Lutfie non vuole dirglielo fino a quando non ne saranno sicure e non lo dovrà sapere neanche Fikret che è capace di prendere una pistola e sparargli. Poi le dice che vuole chiedere consiglio a Betul che è laureata in legge ed è una ragazza intelligente ma Sanye la sconsiglia ricordandole che è la figlia di Shermin ma Lutfie non le dà retta. Zuleya e Hakan sono in azienda e lui le dice che Fikret è innamorato di lei. Zuleya è stupita e non gli crede e gli ribatte che è impossibile perché è sua cognata e vuole solo proteggere lei e i suoi figli. Hakan si ingelosisce per come difende Fikret e offeso se ne va. Shermin avverte Betul che Lutfie le vuole parlare e Betul si preoccupa pensando che lei non accetti il matrimonio ma Shermin le dice che se osa rifiutare la disonorerà per tutto il paese tanto che non potrà più uscire di casa ma le raccomanda comunque di essere prudente con lei perché non possono permettersi di perdere Fikret. Quando Betul raggiunge Lutfie subito le dice che a Fikret non importa che le venga disonorata da tutto il paese Lutfie le risponde che non è vero ma che ora deve parlarle di un altro argomento. Le racconta della telefonata in cui hanno accusato Kadir della morte di Fekeli. Betul si mostra preoccupata perché loro hanno rapporti di lavoro con Kadir. Lutfie le dice che vorrebbe denunciarlo ma Betul glielo sconsiglia perché non hanno prove e Kadir e Mehmet sono persone pericolose. Quindi le assicura che contatterà degli avvocati per far indagare su di loro. Quindi le dice che voleva tornare a Parigi a causa dei pettegolezzi ma che resisterà per aiutarla e le promette che non dirà niente a nessuno. Lutfie le assicura che presto risolveranno la situazione con Fikret. Zuleyya raggiunge Hakan e gli dice che non voleva che si offendesse che lei conosce Fikret e sa che la considera una sorella e che non è cattivo. Hakan le chiede come fa a non vedere che Fikret è innamorato di lei anche se non riesce ad ammetterlo neanche a se stesso e che ogni volta che lo vede lo provoca. Poi le dice che un uomo combatte per tre cose il denaro e lo hanno entrambi la famiglia ed entrambi non ce l'hanno e per amore ed entrambi sono innamorati della stessa persona. Quindi le dice che se vuole stare con lui deve accettare questa verità e comportarsi di conseguenza. Betul naturalmente ha chiamato Kadir e gli riferisce che qualcuno ha chiamato Lutfie e lo ha accusato di aver ucciso Fekeli. Kadir resta imperturbabile e Betul, insospettita, gli chiede se è vero che è stato lui. Dal sorriso beffardo di Kadir capisce che è vero. Allora gli riferisce che Lutfie non vuole dirlo a Zuleyya e Fikret per non farli preoccupare e perché ha paura delle loro reazioni. Kadir commenta che è una donna intelligente e che lei deve fare in modo che Lutfie non indaghi sulla vicenda perché se lui si brucia, brucerà anche lei. Betul gli dice che lei non c'entra nulla con quella storia ma Kadir le ribatte che sono sulla stessa barca e se non fermerà Lutfie ne pagherà le conseguenze. Kadir torna in ufficio dopo aver parlato con Betul ed è nervosissimo quindi dice a Vap che si trova in grossi guai e non sa come uscirne perché Lutfie sa che loro hanno ucciso Fekeli. Lutfie raggiunge Fikret in ufficio dicendogli che deve parlargli lui capisce che l'argomento è Betul e le racconta che quando si è avvicinato a lei si trovava in un momento di confusione e ha fatto un errore che entrambi sono adulti che ci hanno provato ma non ha funzionato. Lutfie gli ribatte che tutti sparlano di Betul e lui non può giocare con l'onore e l'orgordio di una ragazza. Poi gli dice che Betul vuole tornare a Parigi perché l'agente dice che lui ha giocato e poi l'ha lasciata e sa che a Ciukurova non potrà ricostruirsi una vita. Lui le risponde che non vuole sposare una ragazza che non gli piace e pagare un errore per tutta la vita. Lutfie allora gli risponde che ha sbagliato ad illuderla e a portarla negli hotel macchiando il suo onore. Poi, inflessibile, aggiunge che è un bene che Fekeli non veda come sta infangando il suo nome e che si deve vergognare. Fikret è concetin e si confida dicendogli che ha commesso un errore ha danneggiato Betul ed ora tutti le parlano alle spalle ma quando è successo lui era a pezzi perché erano morte tutte le persone che amava. Si è distratto con Betul ed ha sbagliato ma non le ha mai dato speranza ed ora dovrà pagare quell'errore per tutta la vita. Poi gli dice che deve confessargli una cosa Cetin capisce subito che si tratta di Zuleya e Fikret gli racconta che all'inizio voleva solo proteggerla fino al ritorno di Demir e che ha cercato di tenerle lontano Mehmet non per gelosia ma perché pensava che potesse farle del male. Solo dopo la morte di Demir vedendo gli sguardi che lei rivolgeva a Mehmet ha iniziato ad essere geloso di Zuleya ma non ha mai avuto il coraggio di livelarle i suoi sentimenti. Poi gli dice che non può sposare Betul quando ama Zuleya Cetin gli risponde che a volte è la vita a scegliere per noi e che è meglio scendere a patti con il destino. Fikret invece afferma che vuole andare subito a confessarle il suo amore perché lo zio non lo aveva fatto con un car e aveva vissuto una vita di rimpianti. Cetin cerca di fermarlo dicendogli che è ubriaco e potrebbe pentirsene. In quel momento alla porta si presenta Save Dead dicendo che deve parlargli. Nel frattempo Zuleya si incontra con Hakan che le chiede scusa per averla sconvolta parlando di Fikret ma lei gli risponde che potrebbe avere ragione ma Fikret presto sposerà Betul e la amerà. Hakan allora le dice che chiuderanno l'argomento. Save Dead riferisce a Fikret e Cetin che al bar ha sentito due uomini sconosciuti che dicevano che per ordine del loro capo avevano caricato delle sostanze stupefacenti su un camion che deve andare in Europa. Fikret subito pensa al camion degli Yaman e dice che il mandante è Mehmet Kara e così si spiega perché è andato a Ciugurova e ha fatto tanti investimenti che non gli importa dell'azienda ma solo di trasportare la sua merce con i camion degli Yaman ma loro glielo impediranno. Quindi tutti e tre si recano alla rimessa dei camion e mentre Save Dead fa la guardia Fikret e Cetin iniziano ad ispezionare e non si accorgono che Vahap nascosto nelle vicinanze li riprende con la cinepresa. Dopo un po' Fikret in un camion trova dei panetti di erba e chiama Cetin. Fikret vedendo le sostanze stupefacenti impreca contro Mehmet accusandolo di voler rovinare Zuleia e dice a Cetin che non possono chiamare la polizia perché i camion sono di Zuleia e la metterebbero nei guai. Dopo aver prelevato tutti i panetti li caricano in macchina e Fikret ringrazia Save Dead per la segnalazione e gli dà dei soldi mentre Vahap continua a filmare. Dopo che Fikret e Cetin se ne sono andati Save Dead si scambia un cenno d'intesa con Vahap. Vahap va da Kadir e gli dà il disco della registrazione assicurandogli che si vede bene il volto di Fikret. Li raggiunge Save Dead e Vahap lo loda e gli dice che grazie a lui rovineranno Fikret. Anche Kadir lo ringrazia e gli consegna una mazzetta di banconote. Poi Kadir dice al fratello di far montare il video in modo che sembri che sia Fikret a trasportare le sostanze sul camion degli Yaman. Fikret e Cetin in un luogo isolato hanno acceso un fuoco e stanno brociando tutto il materiale che hanno recuperato e Fikret si lamenta perché ha messo tante volte in guardia zuleia da Mehmet ma non lo ha ascoltato tuttavia aggiunge che riuscirà a smascherarlo davanti a tutti. Quando Cetin torna a casa dice a Gulten che Fikret è perdutamente innamorato di Zuleia e non vuole sposare Betul. Lei commenta che con Zuleia non ha speranze mentre con Betul sì. Nel frattempo Hakan e Zuleia sono seduti lungo il lago e lui le dice che se avesse saputo che sarebbe stato così felice sarebbe arrivato prima a Cukurova. Zuleia gli prende il volto tra le mani e lo bacia. Il giorno seguente Betul riferisce a Lutfie che dalle indagini che ha condotto Mehmet risulta completamente pulito mentre Kadir ha solo una condanna per possesso di arma da fuoco quindi non possono muovere accuse contro di loro. Poi le dice che potrebbero aver detto una bugia perché sul corpo di Fekeli non sono state riscontrate ferite ma che continuerà comunque con le sue indagini. Lutfie vuole tornare a Disparta ma Betul la sconsiglia perché quei due sono persone pronte a tutto che potrebbero aver fatto del male a Fekeli e le raccomanda di non parlarne con nessuno perché metterebbe in pericolo la vita sua di Fikret e di Kerem Ali. Mentre in ufficio Zuleia e Akan stanno parlando di affari li raggiunge Fikret che si rivolge a Mehmet dicendogli che è pronto a smascherarlo e a Zuleia dice che Mehmet la sta ingannando perché contrabbanda sostanze stupefacenti usando i suoi camion e le mostra un panetto della merce dicendole che era proprio in uno dei suoi mezzi pronto ad arrivare in Europa e se loro l'avessero scoperta sarebbe stata lei la responsabile. Chiaramente Hakan ribatte che è una calunnia e che lui possiede una società logistica per cui non ha bisogno di utilizzare i camion di Zuleia. Lei gli chiede se ha le prove che sia stato Mehmet Fikret le ribatte che non ce n'è bisogno perché Mehmet ha comprato tutte le sue azioni di nascosto ed è apparso all'improvviso e da quando è arrivato a loro succede sempre qualcosa. Poi vedendo che Zuleia è perplessa ma non reagisce le dice che visto che non gli crede e lo protegge da quel momento non ne occuperà più lui. Terminano così queste anticipazioni la lotta per il cuore di Zuleia si fa sempre più serrata e anche le vicende collaterali sempre più intricate. Io sono Stefania come sempre vi racconto le vicende di Terra Mara quindi vi lascio un abbraccio e ci sentiamo alle prossime anticipazioni e nei commenti. grazie a tutti